non finisce più finché la società non ci dirà chi sarà il nuovo allenatore 2024-25 la cantilena andrà avanti all'infinito quindi caro Furlanis caro Nibra Moncada Cardinale o chi per essi ma stringiamo un po' Tribu Rossonera anzi Tribu Rossonera Tribu di gente vera buon primo maggio a tutti e a tutti e bentornata e bentornato qui sul canale del marietto milanista la scelta della giornata del primo maggio vuole ricordare la tragedia della rivolta di A market avvenuta a Chicago Stati Uniti nel 1886 nei primi giorni di maggio di quell'anno nella città si erano susseguite proteste scioperi dei lavoratori che avevano come obiettivo principale quello di portare l'orario di lavoro a 8 ore giornaliere mentre all'epoca si lavorava anche dalle 12 alle 16 ore al dì il 4 maggio scoppiarono poi degli scontri che portarono alla morte di diversi lavoratori e di 7 poliziotti il resto della storia immagino tutti la conosciate o se non la conoscete andatevela a ricercare non è che adesso dobbiamo farla puntare da sul primo maggio ho fatto un riassunto del perché si festeggia il primo maggio la festa dei lavoratori che in buona parte d'Europa così come in Italia anche qui in Spagna oggi era giorno di festa per quello me la son preso con calma avrei voluto fare anche una live ma poi mi sono svegliato davvero tardi e mi son preso proprio una giornata così tranquilla serena perché ogni tanto c'è anche bisogno di staccare nonostante tutto Delirium Italicalcium ragazzi questa sera in esclusiva sul canale Delirium Italicalcium il mio quarto canale ci sarà l'ultima puntata speciale del canale perché dalla nuova stagione come già ho detto più volte passeranno i contenuti sicuramente più ristretti qui solo per abbonati da 0.99 al canale per poter continuare a usufruire di uno show di uno spettacolo che a me richiede tantissimo tempo da organizzare perché una cosa è fare teatro cabaret e una cosa è organizzare i video che ormai ci si è più alla mano ma lì c'è da cambiare personaggi c'è da cambiare impostazione caratteristiche voce e c'è un lavoraccio dietro e visto che mi sono stufato di dare perle in bocca ai porci come ho detto più volte quel genere di contenuto passerà ai solo abbonati che appunto sostengono davvero il canale Tribu Rossa Nera attraverso gli abbonamenti da neanche un euro al mese fino a quello che vogliate voi e dunque con una certa tristezza lo dico ma anche felicità e anche liberazione perché la tristezza nasce dal fatto che vedo che nel mondo la gente non ha più voglia di scherzare di divertirsi di prendere le cose in maniera un po' più leggera è troppo incazzosa incazzata e questo mi fa male ed è lo specchio poi di quello che uno segue o non segue anche nel web si nota dall'altra parte è felice perché posso finalmente dare a coloro che credono in me davvero e che mi vogliono bene davvero attraverso gli abbonamenti al canale dare a loro il premio che giusto meritano e che anche attraverso l'altro canale mi hanno sempre seguito con grande passione e quindi va bene così flow a buon intenditore poche parole Pioli Stefano Pioli Stefano Pioli io mi spiace per coloro che sempre l'hanno attaccato ma io fino alla fine sarò un difensore non della linea dei quattro di difesa del Milan ma di Stefano Pioli non sono il solo fortunatamente anche perché le dichiarazioni tanto di Arrigo Sacchi da una parte che di Mario Balottelli dall'altra spiazzano un po' anche i tifosi in un certo senso ma confermano anche la mia tesi ai microfoni della gazzetta interista dello sport che oggi neanche gli do voce ai giornalacci perché mi sono anche un po' stufato poi il giorno dei lavoratori devo dare a chi vi ruba soldi attraverso le subvenzioni statali con le fake news che vi raccontano tutti i giorni quindi anche no sa chi cosa dice ai microfoni della Rosia la gazzetta interista dello sport ho letto molti nomi ho letto molti nomi di allenatori che apprezzo per la futura panchina del Milan ma sembra non sia tenuto in considerazione un aspetto fondamentale ossia che se per un giocatore straniero è complicato inserirsi nel canzio italiano per un allenatore lo ancora di più secondo me si vogliono due stazioni per capire cosa e com'è il nostro campionato indipendentemente dal valore degli allenatori l'ex allenatore quindi del Milan difende proprio lui Stefanino mio nostro Pioli perché non tenere Pioli io credo che la sua esperienza al Milan sia tutto sommato positiva ha vinto uno scudetto la società aveva speso meno dell'avversaria in quell'occasione aveva stupito tutti e divertito il pubblico in questa stazione se tutto va bene si piazza il secondo posto in campionato significa che soltanto l'Inter ha fatto meglio e poi i giocatori acquistati li ha voluti tutti Pioli o sono stati scelti dai dirizzenti perché se sono stati dai dirizzenti le responsabilità vanno divise a metà io credo che Pioli meriti rispetto per quello che ha dato a Milan e per come si è comportato mi sembra che la sua conferma non sarebbe un ripiego è un allenatore che ha saputo migliorarsi nel corso del tempo è vero che ha commesso errori ma sbagliare umano prenderà in considerazione l'ipotesi di confermare Pioli l'ha detto Sacchi eh no coloro che prima mi criticava ma come puoi mettere in considerazione le parole di Sacchi quando diceva cosa è contro il Milan adesso mettete anche questo contro dai su Sacchi non è stato mica il vata rivoluzionario del calcio del Milan che ha cambiato tutto e per tutto nel calcio mondiale con la sua 4-4-2 pressing alto asfissiante avete qualcosa di ridire anche su questo? le parole che danno ragione al Marietto lui comunque continua e pensate un po' le alternative che dice ma lui Sacchi Arrigo tu segui il Marietto Milanista di la verità dai dai su di la verità perché poi cosa dice se non Pioli punterei su un allenatore top alla Klopp Ancelotti o Guardiola cosa vi dice sempre il Marietto da secoli dei secoli che cosa vi dice il Marietto dai secoli dei secoli se se ne va Pioli solo uno di questi tre Klopp Guardiola o Carletto nostro o l'ha detto anche Sacchi allora il Pirla sono io giusto? o siete voi che non capite un cazzo di calcio? tanti di voi non dico tutti perché fortunatamente c'è chi ci capisce e questi nomi possono sembrare non arrivabili e dunque se non arriviamo a loro un nome che mi piazza De Zerbi lui sarebbe un tecnico che potrebbe far bene perché viene d'esperienze importanti che l'hanno fatto maturare ma guarda un po' ma guarda un po' ma cosa ha detto il Marietto? se proprio dobbiamo fare una perché Conte no Conte Antonio Conte ragazzi vi va bene uno o due anni è come una scopata veloce non è come il Tantra che te lo assapori la cosa bella gioiosa anche del fare all'amore con i preliminari il durante il post eccitante che dura un po' molto di più con Conte è una scopatella veloce toccata e fuga finito lui dura uno o due anni si rompe i coglioni e se ne va finito il progetto Conte questo volete? siete da scopata veloce? io a me piace farla con più con i crismi del caso eh quindi o Tiago Motta o De Zerbi quindi ha azzeccato quello che penso io se non puoi arrivare ai tre del Pantheon Clop Guardiola Pioli io ce l'ho sempre dentro di me ovviamente Ancelotti De Zerbi o Tiago Motta per un progetto a lunga scadenza o no? Mi sbaglio? Dimmi se mi sbaglio me lo dici sotto o se sei d'accordo con me preferisci la chiavatella veloce o preferisci il tantra? Con anche lì ostriche caviale un buon vinello bacco tabacco no tabacco no bacco eh? o invece no vuoi fare la frecata veloce che sei la frecata veloce figlio mio non sei del mio partito eh? Balottelli si scaglia contro la squadra attenzione è intervistato da TV Play e sulla piattaforma viola cosa dice Super Mario tifoso del Milan ex giocatore del Milan dice i giocatori del Milan camminano come facevi tu? cioè non è che è molto diverso da quello che facevi tu in campo Pioli che colpe ha? Se le ha in 45 minuti non salta l'uomo mezza volta che colpe dobbiamo dare a Pioli? Dunque secondo lui la colpa è dei giocatori e quindi no del mister è maturato il marietto perché ai tempi la colpa era sempre del mister che non sapevano come collocarlo in campo non lo capivano lui era tutto estroso però in campo non si muoveva neanche lui io mi ricordo che era un palo fisso non è che uno che correva da una parte all'altra del campo quindi come si dice il toro che dà del cornuto all'asino a Balottelli sono d'accordo sul fatto che io anch'io difendo Pioli riconosco che ha fatto gli errori ma sicuramente è uno dei più grandi allenatori che abbiamo avuto perlomeno in questi ultimi 15 anni visto che ci ha fatto vincere lo scudetto più bello due volte secondi se arriviamo secondi anche adesso siamo arrivati anche in Champions League l'anno scorso dopo 16 anni dopo 7 anni siamo rientrati in Champions sono stati tanti aspetti positivi con una squadretta di giovani non è che abbiamo i top player uno ce n'è e c'ha 38 anni ed è sulla via di fuga verso Los Angeles giustamente per finire la sua carriera d'anziarotto in quei campionati là e non ovviamente nel Milan con tutto l'amore per Oliviero lo Sparviero Girù che sempre sarò grato per aver vestito tre anni la maglia gloriosa del Milan il più grande centravanti della storia della Francia non lo dice Marietto lo dicono i numeri il giocatore che ha fatto più gol nella storia della Nationale Francaise e per concludere Mario Cia tu pensavi che fosse finito l'elenco della spesa dei nuovi nomi attenzione 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 tutto confermato da Sport Italia quindi se lo dice la rete di Criscidia va così Maurizio Sarri la lancio così perché tanti lo vorrebbero Sarri è libero lì qua il filtro di sigarette ha voglia poi le conferenze stampa con Sarri sai che divertimento ogni domenica però anche lui gioca 4-3-3 e quindi va bene per lo sistema del Milan e poi non viene l'ora di allenare a Tiziani e quindi in Milan sembra che Sarri in poche settimane abbia fatto la scalata del Monte Everest per diventare il prossimo allenatore del Milan ragazzi ho perso il conto quanti cazzo di allenatori già ci hanno affibbiato ognuno ha il suo allenatore ma sono curioso dai la voglio buttare lì la butto lì e così chiudiamo però mi devi rispondere in basso siamo arrivati qua al minuto 14 dimmi in basso non ti dico tutti tanti nomi già li conosci 3 fammi allora prima di tutto 1 mi devi rispondere però confermeresti Pioli almeno per un'altra stagione sì o no se no se è un no fammi scrivimi i tre allenatore i tre allenatori che vorrei togliendo ragazzi l'impossibile che già lo sappiamo Klopp Guardiola e Ancelotti tutti li vorrebbero togliendo questi tre quali sarebbero i tre che tu sceglieresti per il prossimo Milan e qua chiudo perché già penso che per una giornata della festa dei lavoratori già ho tirato fuori un delirio di video che adesso vedrete alle intorno 21 no 20 e 45 21 adesso tra le 20 e 30 e 21 uscirà lo speciale ultimissima puntata sul canale l'ultimo episodio sul canale delirium italicalcium e da quel momento da questo momento non ci saranno più video su quel canale perché si sposteranno gli attori principali che vedrete in quel video sulla tribù rossonera solo per abbonati e quindi anche tu da 0.99 al mese o se vuoi di più partecipa al lavoro quotidiano della tribù rossonera la tribù rossonera saggezza popolare e delirium italicalcium che si ingloberà a tribù rossonera per soli voi abbonati da soli 0.99 neanche un euro al mese potete avere lo show reale solo per voi però dalla nuova stagione in queste in queste settimane vi metterò il meglio così ve lo faccio assaporare ok ragazzi io vi auguro davvero un buon fine primo maggio a tutti e a tutti mi raccomando non perdetevi lo speciale delirium italicalcium perché ci saranno tutti i personaggi più il nuovo personaggio interista bauscia interista che sarà nella prossima stagione qui solo per abbonati tribù rossonera buon fine primo maggio un bacio amico un forte abbraccio a tutti gli amici grazie per i like grazie per le iscrizioni grazie per gli abbonamenti grazie per tutto e per tutti e sempre forza milan ovunque comunque ciao